Partita 6-1-3, 5 metri in farfanno. Ieri fuori si è mai successo, 1-12-5 metri a parte elettro. Tutti gli anni lo sono trovato. Foto fissi, vedete se tutto giusto. Dopo oggi è bello, stiamo a Bolzano, potrebbe andare, però potrebbe andare, potrebbe andare, dai. Diamo un po' di applausi a Bolzano, che è un po' di applausi a Bolzano, che è un po' di applausi a Bolzano. Adios! È un bel giorno, ma, Mario Sussi, vede un pochino. Dai, un applauso a Bolzano, dove siamo? Vai, un po' di applausi a Bolzano, dove siamo? Vedi, un po' di applausi a Bolzano, ecco, vediamo, vince con la squadra, la tattaserie, questa serie 1, Mario Sussi. Grazie.